Questa terza edizione di Urban Promo Green ha confermato che si tratta di una manifestazione unica in Italia in cui esperti, studiosi, ricercatori, professionisti provenienti dalle sedi universitarie della ricerca, dalle pubbliche amministrazioni, dal mondo delle professioni, dalle aziende pubbliche e private si trovano per presentare le esperienze più evolute e più innovative sulle varie sfaccettature della sostenibilità e per trarre spunti per il proseguimento della loro attività. Uno scambio virtuoso, suscettibile di ulteriori forti avanzamenti sia nell'attività di ricerca, di studio, didattica, professionale che ciascuno porta avanti, sia più in generale per quanto riguarda l'evoluzione delle forme di pianificazione. I temi sono stati molto variegati, molto specialistici, temi di punta, che sono stati trattati nell'ambito di 21 incontri, tra convegni, seminari, workshop, ai quali hanno partecipato circa 700 persone, intendendo per tali delle presenze uniche. La presenza media giornaliera è stata superiore alla metà di queste presenze, quindi non si può che esprimere una grande soddisfazione per questa iniziativa che tutti si aspettano che possa continuare anche in avvenire.